Lutto nel mondo del calcio nella Serie A per la morte di Giancarlo Beltrami. Si è spento 85 anni. Beltrami è stato il direttore sportivo nero-azzurro per 16 anni dal 1977 al 1993 sotto la presidenza di Vanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini. Con l'Inter ha conquistato sei trofei, gli scudetti del 1979-80 e 1988-89, la Coppa UEFA 1990-91, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Come calciatore ha indossato le maglie di Varese, è la Sverona, Bolzano, Cosenza, Livorno e Monza. Grazie a tutti.